Allora ragazzi, tanti miei studenti, tanti miei clienti, praticamente tutti quando vengono da me cominciano a dirmi sempre le stesse cose ma Filippo, cavolo, ho sempre fatto questo e adesso faccio qualcosa di diverso ringraziando Dio, perché se tu facessi sempre quello che hai sempre fatto abbiamo visto prima che avresti i risultati che hai adesso, i quali non sei contento quindi dobbiamo cambiare strada. Automaticamente cosa succede? Per dire in modo molto veloce quando tu devi dimagrire, hai bisogno di mangiare di più no, non sono impazzito, non sto impazzendo, hai bisogno di mangiare di più questo nella stragrande maggioranza dei casi dà un risultato duraturo al 100% ma scusa Filippo, io devo dimagrire? Cazzo figo, vengo da te a mangiare di più aspetta, ora lo spieghiamo il perché allora, incominciamo subito col dire un qualcosa, che le persone, anche quando tu vuoi essere molto analitico e dici ok, calcoliamo il tuo metabolismo, dimmi veramente quello che tu mangi giorno dopo giorno ragazzi, siamo sinceri, io lo so cosa mangio, lo so molto bene quindi so dove l'ho sgarrato, so dove l'ho fatto giusto, voi non lo sapete è una stima potrà essere, ho mangiato un po' di pasta, potrà essere quattro etti vi siete dimenticati quel mojito, vi siete dimenticati quella pastina, vi siete dimenticati eccetera quindi voi vi date una lista di alimenti che avete mangiato, che mangiate regolarmente che di norma è la metà di quello che vi entra in bocca in secondo luogo vedete un casino di roba da mangiare, colazione, spuntino eccetera e avete subito la paura, come è giusto che sia, è così che è normale di mangiare troppo, ma vi spiego il perché allora, automaticamente noi qua vogliamo risultati non vogliamo andare secondo la moda perché vi dico di mangiare di più? perché automaticamente quello che noi non dobbiamo fare che vi ho detto all'inizio è associare già un cambiamento perché voi siete rivolti a me avete anche preso questo video corso avete fatto un qualcosa di esterno alle vostre consuetudini noi possiamo fare una sola cosa alla volta non siamo multitasking quindi abbiamo preso questa decisione diciamo ok, voglio cambiare credente, tutto quello che è voglio andare avanti bene, questa è la nostra decisione come si attua in maniera il più liscia possibile meno frustrante possibile da stare ancora più legati alla nostra zona di comfort come si fa? semplicemente incominciando a mangiare di più e incominciando a fare alcuni tipi di tecniche dandoci una lista di alimenti che possiamo o non possiamo mangiare carboidrati, proteine, grassi ragazzi non ve li dico tanto lo sapete benissimo quello che sapete o non lo sapete mangiare non c'è la nutella non ci sono tantissimi elementi confezionati e insomma le proteine ragazzi sono quelle quindi non è questo il corso per dire cosa mangiare e cosa non mangiare i miei studenti sanno benissimo come, quando, dove, perché mangiare quei tipi di alimenti e hanno tutto spiegato o sanno meglio di voi quello è normale che sia così in secondo luogo imparare a cucinare le persone che sono in sovrappeso non cucinano voi ragazzi non cucinate no ma non ho te non prendiamoci in giro, ti prego a fare un pancake ci metti tre minuti a mangiarlo un minuto io 30 secondi perché sono un'oca, sono vorace però ci mettiamo tre minuti a microonde tre minuti secondo me tu li hai in secondo luogo preparati il petto di pollo ci metti cinque minuti o preparati la carne quello che è insalata, busta, finito di preparare gallette già pronto, ok, riso anche qua 5-10 minuti debbo preparare i pasti uno no, non prendiamoci per il culo ok, ti stai autosabotando non funziona così quindi il tempo ce l'hai, ce l'ho io, ce l'hai tu, ce l'abbiamo tutti in secondo luogo imparare a fare la spesa fare la spesa significa muoversi, significa il discorso che ho fatto prima non patatina togli il rettile, esci, vai a comprare le patatine non lo farai sarà molto più difficile perché nel momento che sarai lì davanti alle patatine magari le prenderai ma in maniera molto più difficile con molta meno probabilità perché vai a cercare la razionale che ti sparerà sarà la mia faccina che dice no patatina cambia corsia quindi imparare a cucinare imparare a fare la spesa e automaticamente mangiare come tanto senza troppe linee e guidi astringenti perché una linea guida ci deve essere deve essere un percorso più o meno stabilito ma devono esserci dei cordoli perché è questo? perché noi abbiamo già fatto dei cambiamenti non cucinavamo, lo stiamo facendo non facevamo troppo la spesa mangiamamo robe pronte, lo stiamo facendo abbiamo già deciso di fare un percorso non troppe binari stringenti quindi cominciamo a mangiare a sazietà solo alimenti consentiti questo porterà due cose ma Filippo posso veramente mangiare quello che voglio? quasi sì prima di tutto prima ho parlato della termogenesi del cibo quindi mangiando più proteine mangiando alimenti più sani e via i più termogenesi ingrasserai meno in secondo luogo non ho mai visto gente ingozzarsi a chili e chili di petto di pollo ho visto gente ingozzarsi a biscotti patatine e nutella automaticamente mangiando nostre verdure il nostro secondo il nostro riso eccetera la nostra pasta perché no i nostri grassi buoni non rischieremo di andare troppo oltre quanti pasti fare? anche qua non troppo stringenti linee guida basta a sazietà vero appetito con questo tipo di metodo incomincerai a capire veramente cosa tu debba mangiare cosa tu non debba mangiare quali cibi evitare? ragazzi quelli che sono legati in maniera compensatoria al vostro mancanza di diciamo felicità felicità intesa come arrabbiatura incazzamento eccetera eccetera ok? quindi quegli alimenti che voi di norma utilizzate per andare a compensare situazioni che non vi piacciono li togliete ma li mettiamo nel giorno sgarro perché? perché non dobbiamo contare troppo sulla nostra forza di volontà perché la nostra forza di volontà non è forte se no eravamo già infisicati tonici e magri ma non lo siamo quindi ammettiamo che non siamo forti e diamoci dei pianerottoli la scala è fatta a pianerottolo cosa useremo nel pianerottolo? non vi prego io sento anche queste cose Filippo posso sgarrare con una tagliata e io mi irrabbio veramente perché se hai 40 kg in più non stai sgarrando con una tagliata ah ma io quando inizio una cosa voglio fare perfetta tu non devi fare niente devi stare zitto non hai risultati segui me se no continuerai a non avere risultati ma io no però se mi metto lo faccio in maniera giusta se l'avessi voluto fare lo saresti già magro quindi non mi incominciare a rompere le palle ora stai zitto e ascolti me quindi sul pianerottolo vai a prendere quegli alimenti che tu di norma usi come compensatori e vai tranquillamente a usarli anche per dare un senso di appagamento dire che bello me li sono potuti concedere ne mangerai meno avrai dei piccolissimi sensi di colpa nel senso che è voglioso di riniziare il tuo percorso e automaticamente queste prime settimane serviranno solo come se fosse un corso di iniziare a capire quello che devi mangiare o che non devi mangiare quello che dovrai evitare come la peste sarà lo zucchero e mangiare molti più proteine ma magari ne parleremo dopo quindi questo è il primo passo non metabolismo divario calorico fasi di ipo enormo per abbassare la leptina che ne parleremo dopo questo arriva dopo questo lo può fare un atleta lo può fare una persona che ha un chilo da perdere che si vede già bene che non ha questi problemi le persone che da troppo tempo hanno troppi chili da perdere non possono partire qui sarebbe come partire dalle medie bisogna partire ragazzi dall'asilo è brutto da dire ma bisogna partire dall'asilo ok? questa fase è la fase più importante se voi riuscite a farle per 1, 2, 3 settimane quanta farla? adesso ve lo dirò semplicemente voi riuscirete a dare una base non tornerete più indietro da lì potrete mangiare troppo ancora troppi alimenti consentiti potrete avere troppi pianerottoli ma stiamo già messi molto meglio prima avrete sempre un miglioramento non tornerete più indietro da lì automaticamente quanto tempo tenere questa fase? beh, questo è un discorso molto semplice per i miei studenti è facile perché giorno dopo giorno io li vedo io li sento io vedo le foto io ci parlo eccetera ed è una sinergia ma quando voi incominciate a vedere che riuscite sempre a tirare la corda sempre a essere più analitici incominciate a capire il vostro metabolismo e cosa fate che nita avete e calcolate tutte le vostre calorie le percentuali incominciate a giustamente informarvi capite anche come settare il tutto volete perdere meno tempo sapete come farlo vi rivolgete a qualcuno questo è normale se giustamente volete perdere più tempo e mettersi di più lo fate da soli però vedete che avete già le basi giuste per non cadere più oltre quel limite di guardia questa è la prima cosa prossima lezione parliamo di proteine e di zuccheri grazie a tutti grazie a tutti